Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti e code a tratti per traffico intenso verso nord tra Baldarno e Firenze Sud e tra Firenze Sud più e 1 variante di Valico. In A12 permangono code alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano. In Fipili code per lavori verso Firenze per 2 km tra Empoli ed Empoli Est e tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est per 1 km in carreggiata opposta. Code 2 km ancora una volta per lavori tra Bive e Dinamazione Pisa, SGC, Fipili e Navacchio. Siamo al traffico ferroviario, sono in programma dal 5 al 31 agosto. Gli interventi di RFI per il raddoppio ferroviario tra Empoli e Granaiolo con circolazione ferroviaria sospesa e servizio sostitutivo con bus. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!